Ciao ragazzi, bentornati sul canale e bentornati su War Thunder Oggi andiamo a vedere un cacciacari davvero molto divertente, ovvero lo Stug 3 Ausf A Vediamo subito le sue caratteristiche Siamo in Era 1, livello di combattimento 2.3 Abbiamo un cannone da 75, eccolo qui, con 44 colpi in totale Velocità di rotazione torretta 7.5 gradi al secondo Anche se il cannone è attaccato alla struttura del carro stesso, non ha una torretta che ruota Brandeggio verticale, meno 10.20 Tempo di ricarica davvero molto buono, 3.5 secondi Corazzatura, scafo e torretta abbastanza buoni, però vi posso assicurare che verrete comunque penetrati Magari un po' di camuffamenti possono aiutarvi a nascondere i vostri punti deboli Penetrazione 51, 50, 45 e rispettivamente a 10, 100 e 500 metri 4 membri dell'equipaggio, pilota, servente, artigliere e comandante Velocità massima davvero molto interessante, 43 km orari che verrà quasi sempre raggiunta Davvero molto bene Andiamo a vedere nello specifico le varie munizioni che portiamo in battaglia Io personalmente andrò ad utilizzare le HEAT Come detto ragazzi, carro di era 1, andiamo subito in partita Via! Allora, siamo in una posizione molto particolare Nel senso che per arrivarci, come vedete, siamo al limite con il campo di battaglia Tra l'altro mi hanno visto purtroppo, evidentemente quando ho sparato mi hanno spottato Eccoli, guarda, guarda i carri a sinistra 1, 2, 3 carri Solo che io adesso sono bloccato perché ho la trasmissione fuori uso Appena la trasmissione viene riparata, cerchiamo di prendere la mia Trasmissione e motore, un po' tutto Ok Eh, un colpo Vediamo No, 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 di più mi sa Binocolo Non vedo nulla Eccolo Non è facile per la verità, eh Anzi, è abbastanza complicato Colpirlo Anche perché le visuale non è che sia proprio chiarissima Forse leggermente più No, è stato distrutto Ok, lui anche prende la mira Spariamo anche noi Ok, pilota, non si può muovere Non si può muovere Proviamo ancora Comandante, lo stiamo colpendo Non devo muovere il mouse Non devo muovere il mouse Stiva munizioni Ragazzi, se faccio questa kill a limite della mappa Sìììì Una kill per devi Ragazzi voi non potete immaginare Quello che ho passato Nel senso che là ce ne sta uno tra l'altro Per arrivare a questo punto Vi assicuro che non è facile L'ha distrutto? No Leggermente più in basso L'ha distrutto adesso? Mi sa di sì Perché come vedete c'è la scritta Torna al campo di battaglia Ebbene ci sono alcuni momenti dove Inizierà il conto alla rovescia Dopo il quale sarete distrutti Però Ce la fate senza troppi problemi Continuiamo a sparare Anche se qui la mira Con questo cannone sinceramente Non è che lo uso sempre Quindi lascia molto a desiderare La cosa buona è che spariamo ogni Ogni tre secondi praticamente Io sto mirando a quello lì dietro Però mi sa che ce ne sta un altro là Eccolo 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 Vediamo se questo è l'alzo corretto Leggermente più in alto Siamo sui novecento Anche qualcosina in più Ok L'ho colpito Proviamo ancora una volta Versaglio integro Proviamo ancora Proviamo ancora Proviamo ancora Dai, ce la possiamo fare Ho alzato leggermente Sìììììì Una guil per Davy Ragazzi Questa è una posizione fantastica Se ci pensate Guardate La visuale che hanno nemici Nei confronti del vostro Bellissimo cacciacari Davvero molto minima L'unico modo che hanno di spottarvi È quando voi sparate Giustamente vanno a vedere Diciamo La polvere alzata Dal vostro cannone Ce ne sta un altro Vai, proviamo Qua siamo molto alti con il colpo però Praticamente impossibile anche da vedere Quasi No, integro No, ho preso l'albero, si è visto chiaramente Ho abbattuto l'albero Ho distrutto l'albero Fantastico, si è visto proprio il colpo cadere Comunque la partita è stata vinta Mi sono posizionato in un punto davvero molto interessante Certo, se lo avessi fatto più velocemente Avrei potuto già sparare qualche carro nemico Però non fa nulla, cerchiamo Di recuperare il tempo perso Diamo un'occhiata con il binocolo Perché loro tra l'altro hanno cappato Charlie Quindi c'è qualcuno Molto vicino Tra l'altro Ok Non lo vedo chiaramente Se devo essere sincero Sto sparando Ma io non sto vedendo Ok, assist Io non vedevo nulla Sono andato Diciamo Con l'istinto di Di sparare Qua ce ne sta uno Ok, perfetto Dove pensi di andare? Non si passa da Charlie così facilmente Quando c'è Devi Ottimo Allora Torniamo nella nostra zona Tra l'altro dovrebbe darvi anche un po' di copertura Per quanto riguarda l'artiglieria E' un punto da non Dimenticare Dobbiamo adesso iniziare un pochino Sei serio? Come hai fatto a passare? E' una cosa fantastica Da dove è passato? Ottimo Non si passa Ce devi Ma Ragazzi Ma serio? Ce n'è un altro? Eh, mi sa di sì No, è l'artiglieria Che è chiamata Ok, passiamo nuovamente Sotto al ponte O quel che sembrerebbe un ponte Ok Fuoco di artiglieria Non c'è problema Abbiamo la copertura Diciamo che il camuffamento qui Ecco appunto Il camuffamento qui dovrebbe darci Eccolo Lo sapevo Un minimo di copertura Stavo per dire Invece Mi ha spottato Evidentemente Dal colpo precedente Che ho sparato Ha avuto il segnalino Che mi ha Mostrato Appunto Sulla mappa Comunque sia Ormai Quella posizione Penso che sia Compromessa E non si può più Utilizzare Ma continua a spararmi Come? Da dove? Quando? Ma chi è che mi spara Da un'ora? No Ma sei serio? Dove sei andato? Guarda dove sei messo? Non ci voglio credere È stato distrutto Mi sa Spero di sì Vabbè Qui Continuano a morire Carri uno dietro l'altro No, niente Mi ha distrutto Bravo per il punto Che hai trovato Davvero molto interessante E ragazzi Che vi devo dire Nuovamente fuoco Non posso più riparare Abbandonate il carro Ce ne sta uno Di fronte a me Ho appena sparato Un po' di colpi Ma purtroppo Non sono stati fatti Dei danni Al carro Nemico Canna Perfetto Ok Adesso questo l'hai sentito Vero? Perfetto Distrutto Ok Uno è passato È passato da dietro In questo istante Allora Secondo me Siamo circondati Ve lo dico In maniera molto chiara Hanno catturato Un'altra zona Eh vabbè Dai tanto Figurati Per quella Deve essere Allora Là Ci sta qualcuno Che Io non so Se sono avanzati Già tutti i carri Però eh Magari qualcuno È rimasto indietro Vai Andiamo a prendere Quel carro Comunque Fortunatamente Siamo molto veloci Almeno questo Vai vai Da dietro Non ha scampo Con il nostro cannone Dovremmo essere Molto vicini Eccolo Scusi Lei Potrebbe Gentilmente Finirla Di sparare Ai miei Alleati Grazie Molto gentile Adesso io Tornerei Nuovamente Su Charlie Eccolo L'ho visto Non so Se voi L'avete visto Dall'altra parte Della mappa Cioè Dall'altra parte Della Della costruzione Lì Sta facendo il giro Perfetto Ti avevo visto Ti avevo visto E sei anche un carro Molto fastidioso Perché sei molto Molto veloce No Niente bombe Per me Per favore Grazie Sto cercando di smettere Di mangiare le bombe Ok Là ce ne sta uno La depressione Qua No La canna Lo sapevo No Non mi fare male Perfetto La canna Le canne Ragazzi Le canne Sono Fanno male Fanno male Perché nel senso Che qualcuno Potrebbe capire male Ti bloccano I colpi Ti bloccano Non è la prima volta Che succede Vi feci vedere Anche un video Nel replay Nello specifico Molto tempo fa Chi mi segue Capirà Avevo un carro Totalmente diverso Però il risultato È sempre quello Un nostro carro È stato appena Distrutto Sul lato destro A pochi metri Da me Devo capire Dov'è il carro Nemico Stiamo dominando Il nemico Ok Comunque questa zona La conosco molto bene Aspetta Non ci credo Non ci voglio credere Stava salendo Da quella parte E io stavo facendo La stessa cosa Al contrario Fantastico Ci prendiamo Un'altra kill Che non fa mai male Ce ne sta Uno sulla destra Non so se lo vedete Vediamo Anzi sono due Vediamo Se questo arriva Ok Ok critico Pilota Non si può muovere Vai No Da dove Quello Mi ha distrutto Fine dei giochi Vediamo i risultati Posto scontro Siamo arrivati Settimi Abbiamo fatto Un totale Di 5 kill E abbiamo portato A casa Anche Un trofeo Di battaglia Vediamo Nello specifico Dei backup Che non mi servono Perfetto Con un colpo Vendicatore Professionale Per 5 Serie Di attacchi furtivi Per 5 Furia Metallica Ragazzi Video terminato Grazie per l'attenzione Noi come sempre Ci vediamo Alla prossima Ciao 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 Ciao